E' uscito da pochissime ore il nuovo spot di Marvel Spider-Man 2 ragazzi, il nuovo spot di Marvel Spider-Man 2 nel quale non vediamo molto, non vediamo molto, è uno spot a livello insomma anche magari commerciale, non è uno spot molto importante in verità, quello che vediamo non vediamo nulla di che, però comunque ragazzi è già qualche movimento che vediamo su Marvel Spider-Man 2, perché se ci fate caso ragazzi è un movimento importante. Cioè dovete pensarci, non abbiamo visto niente per tutto questo tempo e oggi se ne escono con uno short, quindi a parte che potrebbe uscire qualche trailer da nulla, ma magari è anche il momento, è anche un segno del fatto che tra poco potremmo vedere qualcosa di nuovo, di importante. Io sarei molto curioso, sarei veramente molto curioso, anche perché vuol dire che anche dal punto di vista commerciale stanno iniziando le produzioni, quindi vuol dire che qualcosa si è smosso in questi ultimi mesi. E ragazzi sono molto curioso di vedere anche cosa succederà nei prossimi giorni sempre su Marvel Spider-Man 2, perché ragazzi a questo punto, prima cosa che si è smossa, possiamo provare a sognare. Mi raccomando, c'ho dei like, iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi.